In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it, Giuseppe, prima di parlare delle previsioni meteo di questo fine settimana, puoi anticipare ai nostri telespettatori quali sono le condizioni attuali del tempo? In queste ore la Campania è interessata da un profondo minimo depressionario al quale si accompagna una intensa perturbazione di origine atlantica che sta determinando precipitazioni diffuse e persistenti, soprattutto sul versante occidentale. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ad intensificarsi ulteriormente, assumendo carattere di rovescio temporalesco. Inoltre va segnalato il rinforzo del vento dei quadranti occidentali che metterà in pessime condizioni lo stato del mare. Tuttavia, dalla serata, le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi, mentre la ventilazione subirà un ulteriore rinforzo disponendosi da maestrale. Nel corso della notte sono previste raffiche di burrasca in mare aperto e in prossimità della costa. La depressione, come possiamo apprezzare sulla cartina prevista per domani sabato, si porterà sulla Grecia. Pertanto, sulla nostra regione ci attendiamo un rapido miglioramento. Per sabato 14 e domenica 15 dicembre, come si svilupperà invece il tempo? Per domani, sabato 14 dicembre, avremo cielo irregolarmente nuvoloso lungo la costa, con tendenza a schiarite sempre più ampie, con cielo che si presenterà poco nuvoloso entro la tarda mattinata. Una nuvolosità più compatta potrebbe presentarsi nelle aree più interne, dove non si esclude qualche residuo piovasco. Ma anche qui la tendenza sarà per un rapido miglioramento. Temperature in temporanea diminuzione. Venti inizialmente forti da nord-ovest tenderanno a diminuire di intensità nel corso della giornata, fino a risultare deboli entro la serata. Mari da agitati e ammossi, con moto ondoso in ulteriore diminuzione dalla serata. Domenica 15, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con rari passaggi di nubi stratiformi. Temperature insensibile aumento nei valori massimi. Venti deboli, mediamente occidentali e mare poco mosso. E sulla tendenza della prossima settimana che cosa puoi dirci? Nei primi giorni della prossima settimana sul Mediterraneo centro-orientale si instaurerà un campo di alta pressione di natura subtropicale, per cui il tempo rimarrà stabile anche se durante la notte e al primo mattino dense foschie e banchi di nebbia interesseranno tutte le vallate e pianure interne. Le temperature si manterranno su valori molto miti durante le ore centrali della giornata e in modo particolare sui colli e sui monti. Una situazione destinata a durare almeno fino a mercoledì 18 dicembre. Per ulteriori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteo7.it e a scaricare la nostra app per smartphone.